5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 5, 4, 3, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 3, 1 100, occhio dorso salta dentro a te e attraverso il pallamento, sinistra 4 su dorso, sinistra 4 luta, 120, piccolo dorso, tappa, attenzione in mezzo su salto pronto, tappa, dentro a voi domobili, dentro a 5 su 100, in mezzo su dorso 200, in mezzo su dorso salta 40, sinistra 4 su lungo dorso, 100, destra 6 su salto continua per 100 su 40, 100 oltre il figlio dorso, dorso piccolo salta forse 40, in mezzo su lungo dorso salta, e di destra su due torsi 40, sinistra 5 su dorso, volta volta, sinistra 5 su dorso, 200 oltre il figlio dorso, sentra 6, mezzo a lungo attraverso il pallamento, dorso, forse c'è da dorso, con l'unità dopo un bivio dorso e tieni sinistra su dorso, dorso, in mezzo su dorso, forse salta, sentra 6, 150 oltre il figlio dorso, attenzione dorso salta, in mezzo su salto grosso, sinistra 3 dopo un bivio, 60, in mezzo su dorso salta, in mezzo su dorso salta 50, dorso dopo un bivio, sinistra 5 con tira su due torsi, chiude 100 oltre il figlio dorso salta dosso, sinistra 3 con tira per 100, dopo un bivio, non tagliare, 100 oltre il figlio dorso salta, in mezzo su dorso, 40 oltre il figlio dorso, sinistra 5 su dorso, non tagliare, sinistra 5 con tira per 100, dopo un bivio, non tagliare, 12 130 oltre il figlio dorso salta, sinistra 3 con tira per 100, dopo un bivio, non tagliare, forse salta, non tagliare, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.